Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, siamo nuovamente su Drive for Survival, non so esattamente se avremo mai raggiunto i 100 likes, però volevo giustamente dare un po' di approfondimento al titolo prima di giocarmelo da solo se non vi piace, perché a me onestamente sta piacendo molto. Ho preso l'elicottero, sono andato nell'altra regione che non abbiamo esplorato la volta scorsa, onestamente non so come sono vestito, perché non ho ancora trovato il tasto per potermi vedere, comunque non credo di avere una giacca adatta per questo ambiente, potrei comprarmi dell'acqua, ma in realtà non mi comprarò dell'acqua perché ho bevuto in base, devo solo mangiucchiare qualcosina. Iniziamo a vedere la banca, la banca è quello che è comune diciamo a tutti i rifugi, quello che voglio andare a scoprire ora, dato che ho fatto il pieno alla macchina, voglio vedere se la macchina io me la ritrovo anche qui, là ce n'è una. Qua abbiamo delle daily quest, cast come si pronunciano, in questo caso sarebbe raccogliere, e c'è anche, l'avevo presa anche nella base, me la fai prendere anche qui, sei oggetti tra qualsiasi cosa. Adesso diamo un'occhiettina alla macchina, e vediamo, la macchina sembra la stessa, vediamo se ci è stata portata qui apposta, ma penso di sì, è danneggiata al 5%, la benzina sì è la stessa, quindi possiamo guidarla, va accesa ovviamente, però voglio iniziare a dare un'occhiata qui perché quello che voglio fare in questo video è andare a prendere quello che mi manca per completare il garage. Poi già in base ho costruito la cucina, devo prendere un po' di cose, qui c'è del gasoline, no, è dell'acqua non sicura, bisognerebbe trattarla. Intanto diamo un'occhiata, prendiamo un po' di scrap così qua, abbiamo l'occhiata anche nel baule, bruciamo come se non ci fossero domani, questa è una... è un po' una trollata, ma va bene, abbiamo un campfire, dove craftiamo della carne succosa, mi crafto un po' di carne succosa in modo da... e qua c'è un tizio che vende delle difese, ok sì, ma no, qua ci sono delle risorse, ma onestamente costa tutto troppo. Quindi vediamo se riesco ad esplorare solo questa zona senza dover prendere l'auto, qua si potrebbe fare benzina, ah, guardate un po', devo fare una cosa di questo tipo, prendo questa in mano, e poi prendo la benzina. No, take, ok, abbiamo preso un po' di benzo. Diamo un'occhiata qua, se c'è qualcosa, open storage, soldi, caruba, e questo, vabbè, pazienza, niente. Nel motore, è giusto, devo sempre guardare il motore, perché mi servono queste cose qui. Vediamo, c'è anche un furgoncino qui, però io... Medical box, no, non mi interessa. Al momento io voglio solo questi elementi qui. Oddio. Oddio, sono dei banditi. Figgata, ci sono anche loro che sparano. Cioè, stiamo parlando di unirli, di unirli. Ma, ma che spettacolo! Cioè, stanno arrivando, come se non ci fossero domani, con le loro auto. Hanno aggiunto adesso una patch da 40 Mega, dove leggevo che si può rubare, si possono rubare le auto dei nemici. Allora, mi hanno fatto un po' male, dico la verità. Però, però, io stavo aprendo, aprendendo questa roba, però pare si possa entrare nel veicolo. Se premo C, vedete, si vede l'interno. Io posso, con F, accendere il motore. Ma, ovviamente, questi sono andati a... Mi fate scendere, grazie. Voglio vedere nel baule se è un qualcosa. Proiettili. Cose strane. Queste cosa sono? Corde. Ok, no, non mi interessa. È molto figo, sta cosa. Veramente. Proiettili. Queste cose sono fascette. E questo cos'è? Ah, vernice blu. Vabbè. Hanno lasciato cadere delle cose. Dei proiettili. Ma, è fighissima, sta cosa. Tra l'altro, possiamo riparare il motore. Vedete, usando degli scrap. Ma non me ne frega niente. Bello, bello. Ma, mi ha stupito anche questa cosa, devo ammettere. Allora, vediamo un attimo. Perché non me lo prende più, sta roba? Ho finito lo spazio. Vabbè, scusate. Ma, fammi un po' vedere tutto l'inventario che ho. Perché c'è dell'acqua. Dove che me la butta la roba? Questa. No, io ho due spazi. Ne ho. 15, 21. Non so, polvere da sparo. Vabbè, andiamo a vedere qua. Dai, facciamo un giretto veloce. C'è anche un'ambulanza qui. Possiamo aprire. E dentro ci troviamo, ovviamente, queste cose. Che non mi interessano. Si apre la porta, sì. Qua non c'è nulla. Registratore di cassa vuoto. È già stato spolpato. Qua c'è un delcebo per cani. Una corda. Vabbè. Devo capire bene come si leggono quegli indicatori di temperatura, di fuoco e di... E l'indicatore della temperatura è quello con la fiamma. Perché devo capirlo. Qua c'è un tizio con una scatola. Completamente congelato. Andiamo di qua. C'è una bottiglia d'acqua. Pick up. Acqua fresca. Posso lanciarla. Prenderla. No. Mi è partito un colpo. Lei non ha una bella cera, in effetti. Vabbè. Comunque. Un po' di roba l'ho presa. Vediamo se c'è qualcosa qui nella registratore di cassa. No. Non voglio spingermi troppo lontano al momento. Anche se là in fondo sembra esserci... No. Da là sono arrivato. No. Sono arrivato da lì. Da là in fondo c'è un... Qualcosa. Però... Voi mi hanno attaccato. Voi state lì e guardate. Mi raccomando. Perché... Questo qui... Eh... No. Vabbè. Vi faccio vedere come funziona. Quando prendete la tanica in mano, andate qui e potete riempire con F. Refer. Ok. No. Non put down, ma metti via. Con il tasto. Ok. Qua dentro c'è la cassaforte. Con la solita roba. E qua entraremo in garage. Vediamo un po'. Ma che bello! Che figo che è sta roba. Vediamo se c'è magari un obiettivo, qualcosa da fare per Steam, buttarlo nel canestro. Non lo so. Non perdiamo tempo, ma in realtà vorrei provarci. Vediamo un po'. Vediamo un po' più basso. Un po' più in alto. No. Passo avanti. Poi basta. Va bene. Basta. Ah! Qua mi dà l'auto in garage. Mi dà... Possiamo costruire, possiamo costruire, possiamo riaccendere la radio, possiamo dormire. E questo cos'è? Espandere il garage usando della pietra, possiamo espanderlo, quindi qua dentro mettere più mezzi. Molto interessante. Molto interessante. Ah! E' quello che vorrei costruire nella mia base di là. Perché poi all'interno possiamo andare, presumo, a riparare i vari mezzi. Quindi vedere, infatti, che qui è riparabile. E qua c'è lo storage, dove possiamo caricare la roba che man mano ci portiamo dietro. Molto interessante questa cosa. Voglio solo fare un giretto e vedere. C'è un motore con... Scusate. Con la F. 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 Col tasto C passiamo alla visuale interna, che non è proprio comodissima, ma... Preferirei questa al momento. Vediamo di qua se... C'è... La nebbia è fastidiosissima. Quello lo dico e lo niego. Scusate, ma... Adesso spegni il motore. No, la sto lasciando accesa. Devo prima tirare la mano. Scusate, spengo il motore. Con la F. E poi tiro fuori la mia arma. Che non mi fa vedere. Vediamo un po' se riesco a sparare con questo. E poi passare alla pistola. Vediamo se... Qui sono un po' stupidi, devo dire. Qua, quando morite, c'è la possibilità di far cadere e di perdere degli oggetti. Gli oggetti che non perdete, gli unici oggetti che non perdete, sono quelli che mettete nella cassaforte. Per quello che è importante mettere gli oggetti che vi interessano nella cassaforte. Ora, pistola alla mano. Vabbè, intanto apriamo questo. Che mi prendo altri oggetti per la costruzione del garage. Ah, qua inizia ad essere seria la situazione perché non ci muoviamo bene. Però... Ah, ok. C'è anche una missione... Di esplorare la base. Create. Vabbè, ma qua abbiamo spazio. Prendiamo... Qua c'è un tizio morto. Take. No, ma siamo già pieni. Niente, abbiamo visto tutto qui. Però direi che... Crowbar, vediamo cosa troviamo all'interno. Ci sarà cibo o no? C'è solo la vernice. Dobbiamo tornare alla macchina. La macchina è qui. L'abbiamo abbandonata lì. In effetti non è proprio un gran clima. Quindi io me ne tornerei indietro. E tornerei alla base. Adesso io onestamente... Non so... Devo capire bene a cosa serve la base. Se in ogni luogo dove andiamo c'è già il garage accessibile con tutti i mezzi. E... L'ho danneggiata. Vabbè. Adesso. mi scusi spengo il motore vediamo come l'ho conciata calore del motore 19% danneggiata al 12 sembra essere molto interessante calcolando che adesso calcola già il motore cioè il gioco ha tutte le features probabilmente ha un livello semplice ma che probabilmente poi verrà portato avanti ad un livello superiore quindi si prospetta molto interessante la cosa beh direi che a questo punto torniamo a casa prendiamo l'helipad e torniamo a Oma che al momento pare essere l'unico con queste mura bruttissime che si vedono qui molto avvicinate, probabilmente ogni location che andremo a visitare ce ne sarà avrà i suoi muri dei suoi muri ma molto lontane allora scendiamo siamo qua siamo qua e dobbiamo capire ok lì sotto c'è il garage vediamo se riusciamo a completarlo sì direi che abbiamo quello che ci serviva quindi build ok abbiamo lo stesso garage di prima vabbè allora intanto vi faccio vedere anche qua in realtà non è qua ma è su in cima dobbiamo seguire la casa non è proprio vicinissimo ma va bene abbiamo il rifugio appunto quello che abbiamo visto la prima volta dove ho ricercato la cucina quindi ho usato vediamo qua vedete che indica 6% io bevo ok mi sa che si rigenera dopo un po' di tempo l'acqua quindi non possiamo bere in ogni momento non mi faccio ingannare prendo subito la porta vedete qua la cucina prima era un ammasso di detriti possiamo accendere il fuoco e craftare delle cose ok brucerà per 2 ore e 8 perché intanto siamo vicino al fuoco quindi non lo so onestamente devo capire sono le 22 qua sopra c'è del cibo adesso io inizio a buttare dentro un po' di roba in modo da tenermela lì in modo da farmi anche un po' di spazio nell'inventario le armi il fucile avrebbero finito i colpi quindi oddio questa qua sono 9 mm la pistola va con 9 mm quindi ok mettiamo le frecce e lì invece per costruire i progetti adesso non abbiamo non ci siamo minimamente filati di questa schermata qui perché sono anche utilizzabili i punti stiamo salendo di livello un po' con la guida possiamo espandere le cose ma non abbiamo ancora dei propri punti da spendere credo ah ok la temperatura del corpo bastava qua la temperatura ambientale 27 gradi quindi ok il 100% vuol dire che siamo accaldati si che fa molto caldo qui vabbè intanto dormiamo dormiamo 8 ore ci sveglieremo alle 6 di mattina e sarà presto però siamo caldi stiamo bene insomma belli belli riscaldati non credo ci sia altro da fare la workbench ah interessante ah no qua si spendevano i punti abbiamo 9 punti possiamo craftare i workbench per prenderli quindi farci i piedi di porco il tavolo molto interessante cos'è questo blueprint bench ma ma è questa questa cosa qui cioè praticamente vabbè questo è il bastone con i chiodi cioè praticamente il workbench table possiamo costruirlo sì perché esiste una modalità in cui possiamo costruire credo l'edificio adesso voglio andare a vedere i controlli infatti headlight on foot on vehicle run primary action reload no ma lo troveremo perché dovrebbe esserci anche un build mode dove si può costruire qualcosina qualche tavolo quindi vabbè possiamo anche cercarla ricercarla questa che non ci costa niente vedete che poi se andiamo a equipaggiare la pistola per la creazione dei progetti con la cui la e possiamo andare a metterli vedete abbiamo sì infatti è quello lì il build mode è solo così possiamo piazzare possiamo costruirci proprio una casa dove non c'è mettendo vedete che io passo da un modello all'altro da scaffolding quindi i pilastri insomma mamma mia quanta roba c'è possiamo vuotare F invece si passa in basso quindi le finestre il tetto le scale i mobili sono questi si un chest molto interessante qua invece sono le workstation anche queste molto interessanti devo dire perché abbiamo la workbench woodworking blueprint oven il fornetto la stonecut per tagliare le pietre il melting il tanning per le pelli e il garden per coltivare infatti io credo che colpa mia probabilmente che sono stato un po' superficiale qualcuno di voi mi ha detto non mi sembra nulla di diverso è vero però calcolate se siete arrivati fino a questo punto del video calcolate che oltre a quello che abbiamo già visto quindi le varie location da esplorare in mezzo da mantenere il garage da comunque riempire di mezzi c'è anche adesso questo voglio farlo perché voglio sapere che cosa serve aha così ci tiene all'interno le cose dicevo a parte tutto questo che abbiamo visto si parla anche di creazione di edificio creazione di tavoli e soprattutto la lavorazione di materiali che qui in questo momento non possiamo fare quindi fare una base qui può aver senso fino a un certo punto per magari arrivare qui prendere tutte le cose craftare e ripartire può aver senso in un ambiente freddo perché magari ci craftiamo al volo ci facciamo il workbench veloce rendiamo una zona che ci piace particolarmente zona di crafting e andiamo a craftare ad esempio dove la fa freddo una stufa e iniziamo ad alimentarla iniziamo a coltivare cibo iniziamo a produrre cibo può essere utile qui è un po' forse troppo questa cosa della zona diciamo franca come si bisogna definire qui dove possiamo fare quello che vogliamo sarebbe stato molto più figo e questo magari lo dirò anche gli sviluppatori come consiglio mio fare una cosa un po' più on the road nel senso che tu viaggi esplori nel corso dei tuoi viaggi e man mano ti accampi sarebbe molto ma molto più figo che avere questa zona dove si torna ogni volta senza spendere assolutamente nulla per farlo il gioco io mi sento di promuoverlo pienamente adesso me lo giocherò un po' da solo perché questo video comunque ho deciso di pubblicarlo con o senza i 100 mi piace perché volevo approfondirlo mi sentivo in dovere di approfondirlo perché mi era piaciuto e poi riprovandolo ancora mi sono accorto di aver fatto diciamo saltato tanti aspetti del titolo quindi Drive for Survival finisce qui ovviamente in questo caso non ci saranno altri video poi ripeto se la regola dei 100 like valgono anche per questo quindi se dovesse piacervi diciamo che lo riportiamo di nuovo per intanto ciao a tutti e alla prossima ciao 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 a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti